Sono riusciti a sopravvivere i 101 passeggeri all'incidente che si è verificato ieri nella serata in Messico. 85 feriti, di cui 12 addirittura in gravi condizioni. Una donna che è riuscita a salvarsi dal disastro ha rilasciato, pensate, una testimonianza, una sua, chiamiamola, diretta testimonianza ad una televisione messicana in cui avrebbe spiegato come sono riusciti a salvarsi. E cosa avrebbe detto la donna? Le seguenti parole. Siamo saltati fuori da un buco che si è aperto proprio il dedo di noi, ma non dalla porta di emergenza. C'erano fiamme ovunque, ho visto una bimba con ostioni impressionanti. Il volo dell'aeromexico si sarebbe schiantato poco dopo il decollo. Probabilmente, per colpa del maltempo, in seguita ad una tempesta nei cieli dello stato di Durango. Non ci sono stati decessi dell'incidente del volo, avrebbe detto su Twitter il presidente dello stato di Durango, di nome di José Rosas Aispuro. Mille persone ferite sono state assistite. L'aereo, pensate, sarebbe un Embraer 190 che stava lasciando l'aeroporto di Guadalupe-Victoria a Durango e si dirigeva a città del Messico quando purtroppo avrebbe perso quota precipitando direttamente al suono. 97 passeggeri stava trasportando e ben 4 membri dell'equipaggio, per un totale di 101 circa. Alcuni passeggeri avrebbero segnalato un movimento piuttosto strano quando l'aereo è andato a decollare. Stava piovendo, c'è stata una tempesta, penso che abbia tentato di cancellare il decollo, ma non ci sono più riusciti queste parole di Ice Pool. Insomma, una vicenda questa abbastanza contorta, particolare, forse anche un po' atipica, ma per fortuna è andato tutto bene, nel senso che i passeggeri sono sopravvissuti tutti quanti senza problemi di sorta. Grazie di vivo cuore per la visione e per l'ascolto, un caro saluto e al prossimo video.